Benvenuti a questa nuova puntata di Sociale Imperia TV. Ospite di oggi nei nostri studi è la dottoressa Elena Lanteri Cravet, presidente dell'Associazione Donne Medico. Ben arrivata dottoressa. Iniziamo subito col dire che cos'è l'IDM. L'IDM è una società scientifica, l'acronimo significa Associazione Italiana Donne Medico, ed è un'associazione che nasce in Italia, a salso maggiore termine, nel 1921. È l'emanazione di un'altra società americana, che è nata due anni prima a New York nel 1919, che era Medical Women International Association. Era un'associazione costituita da 140 donne laureate in medicina, che al ritorno da un congresso europeo hanno deciso di riunirsi e di fondare questa società scientifica. Quando è nata in Italia c'erano circa 200 donne laureate in medicina, non di più. Erano giusto un piccolo manipolo di donne che si affacciavano a una professione che era prevalentemente maschile. e di conseguenza era difficile l'inserimento e trovare i propri spazi. Al giorno d'oggi abbiamo in Italia più di 2.000 iscritte. Le donne medico laureate in medicina sono infinitamente di più, comunque, su 67 sezioni in Italia. Nel mondo sono più di 14.000 le iscritte all'associazione ed è presente in 74 paesi sui cinque continenti. È un'associazione che fa parte del programma World Health Organization, fa parte dell'ONU nelle sedi centrali sia di Ginevra che di New York che di Vienna, collabora con l'UNESCO e ha numerosi, con l'UNICEF, ha numerose collaborazioni con associazioni importanti. Ha la sede a Ginevra, mentre la sede legale è in Germania, a Colonia. Che cosa rappresenta il suo emblema? L'emblema, ecco, una domanda simpatica. L'emblema rappresenta la ninfa Igea. La ninfa Igea è figlia di Apollo e del dio Esculapio, a sua volta figlio di Apollo, che erano i protettori della medicina, delle scienze mediche. La ninfa è figlia della dea della salute, indicava e rappresentava la dea della salute e è rappresentata con in mano una coppa che nutre il serpente di Esculapio, che era il simbolo della rinascita, della vitalità, perché ogni anno emerge dalla sua nuova pelle, e perciò era un indice di salute. E la scritta intorno, matrice animo curant, vuole invece dire che curano con l'animo e con lo spirito della madre e fanno praticamente le proprie cure con amore materno. Molto interessante. Ecco, ed è anche accreditata presso il Ministero della Salute. Certo, è un grosso successo che ha avuto l'IDM, perché nel 2003 è entrata a far parte delle società della Federazione Italiana delle Società di Scienze Mediche e questo ne ha fatto un osservatorio della situazione e della valutazione della professionalità delle donne, delle donne medico, e in più è diventata anche provider, accreditata con ISO e tutti i certificati, per la produzione di ECM, che sono i crediti formativi assolutamente indispensabili, obbligatori in qualsiasi professionalità. per cui nel produrre convegni, riunioni e corsi di aggiornamento, questi vengono inseriti nel quadro annuo degli crediti formativi. Ecco, principalmente quali sono gli obiettivi? Ma gli obiettivi sono soprattutto valorizzare quelle che sono le professionalità mediche femminili nell'ambito del comparto sanitario, incrementare e promuovere tutto quello che è l'aggiornamento professionale e lo studio continuo e la tutela e anche l'accompagnamento in determinate situazioni in cui può essere necessario un supporto di un'associazione alle spalle. Bisogna dire che in Italia, come anche altrove, si assiste a una tendenza per cui i laureati in medicina sono prevalentemente donne. Su 15 che si laureano, che si iscrivono agli ordini professionali, 10 sono donne. Per cui c'è una massiccia presenza nelle corsie, negli ambulatori e sul territorio, però per quel che riguarda invece le posizioni apicali, soltanto una minima parte riesce a raggiungerle perché sono ancora predominio della parte maschile. Di conseguenza, il promuovere la professionalità e le capacità di ciascuno è importante anche ai fini di una sua posizione. L'EDM va anche detto che è stata la prima società a parlare di medicina di genere e ad occuparsi della salute delle donne. Sì, l'EDM ha affrontato per prima questo problema che è un problema che nasce dallo studio dell'epidemiologia. Cioè si è visto che moltissime patologie trovano una estrinsecazione diversa tra il genere maschile e il genere femminile. Anche se nell'ambito dei libri di universitari si studia la malattia in se stessa, però determinate malattie si manifestano in modo differente, con delle differenze importanti tra i due generi. In più, tutti gli studi invece si riferiscono a un modello unico. Lo stesso per quel che riguarda i farmaci. Noi ci troviamo di fronte a studi farmacologici che parlano di farmacocinetica, farmacodinamica, tossicità dei farmaci, ma che però parlano sempre di un modello unico, prevalentemente di solito maschile. Invece, vi sono situazioni in cui lo stesso farmaco, la stessa patologia, danno risultati diversi tra i due sessi. Per cui la cosa importante della medicina di genere è proprio quella di focalizzare l'attenzione sia nella composizione dei libri di studio, sia nella ricerca farmacologica, affinché vengano messe in evidenza queste differenze importanti tra i due sessi. Tra l'altro, in Italia, abbiamo delle università che si sono occupate per prima della medicina di genere, che sono la Toscana con Firenze e la Basilicata, dove esiste un master di secondo livello proprio di specializzazione in medicina di genere. E a marzo di quest'anno, aprile, è stato fatto dall'Associazione Donne Medico un convegno nazionale a Palermo, dove è stata fatta la prima riunione internazionale in cui si parlava appunto di medicina di genere. Ecco, ma com'è l'organizzazione in sede locale? In sede locale noi, in sede nazionale, abbiamo una presidente, una presidente nazionale con una segreteria e tutti gli organi nazionali convogliati su Roma. In sede locale, nelle varie sezioni provinciali o locali, abbiamo una presidente, un consiglio direttivo, le socie, nel nostro caso la nostra socia storica che ha fondato la nostra società, la dottoressa Carla Gatti, che è la nostra decana a cui siamo tutti molto affezionati e a cui facciamo i nostri apuri di cuore per la sua salute in questo periodo. Ci estendiamo come estensione territoriale da Ventimiglia fino a Diano Marina e ci occupiamo delle problematiche relative a questa zona. collaboriamo con l'Ordine dei Medici attivamente, che è il nostro organo principale di riferimento. Siamo tutte socie con il dottor Francesco Alberti, che ci ha sponsorizzato e che ci sostiene nelle nostre attività, con l'ASL Unimperiese, con la Regione, che nei convegni che abbiamo fatto ci ha sempre sostenuto e patrocinato. E abbiamo un'attività soprattutto divulgativa. Poi abbiamo partecipato, per esempio, al punto nascite adesso, al punto allattamento con l'ASR. Abbiamo fatto convegni importanti sull'adolescenza, a cui ha partecipato anche il professor Crepè, dei corsi sul disagio del bullismo nelle scuole e con tutte le forze dell'Ordine e le direzioni scolastiche. Abbiamo fatto l'ultimo adesso, a questa primavera, con l'aiuto del Casino di Sanremo, un convegno molto bello sull'Alzheimer, in cui hanno partecipato i principali esperti di Alzheimer in regione, il responsabile anche regionale del professor Calumere, il professor Serrati, delle demenze in regione. E accompagnato anche da un evento teatrale gratuito per tutta la popolazione, che ci ha fatto molto piacere. Abbiamo riempito il teatro del Casino e ci ha dato una grande soddisfazione. Velocemente, dottoressa, perché siamo in conclusione. Esiste la solidarietà tra donne e medico? Sì, la solidarietà direi proprio di sì, perché indubbiamente frequentarsi al di fuori dell'ospedale e in un contesto, in un ambiente lontano dalle corsie e dai luoghi di lavoro, contribuisce a stringere rapporti, amicizie e simpatie, per cui diventa estremamente più facile poi ritrovarsi sul luogo di lavoro con delle persone che si conoscono un po' più profondamente come carattere, come modo di comportarsi e tutto, rispetto a un rapporto più professionale che è sempre decisamente un pochino più freddino. Per cui essere solidali fuori è importante anche perché aiuta indubbiamente a far amare un bel gruppo coeso, che è un segreto per crescere e per migliorare tutti insieme. Bene, grazie dottoressa per essere intervenuta qui nei nostri studi, grazie a voi di averci seguito da casa e ci vediamo alla prossima edizione. Grazie, grazie dell'invito. Grazie.